... Domenica prossima torna in 45 città italiane, la classica corsa podistica organizzata dalla WISP, Vivi Città. Il via sarà dato in contemporanea alle 10.30 dal carcere di Re Bibbia e dal carcere di Opera. Roberto Iacopini. Domenica 6 aprile in 45 città italiane e 10 estere si correrà la Vivi Città per l'ambiente, la solidarietà e la pace. L'ormai classica corsa podistica organizzata dalla WISP è stata presentata nella sala della giunta del CONI. Quest'anno l'impegno della 31esima edizione è mettere il punto sulla questione carceraria. Caratterizzeremo l'esperienza del Vivi Città, la nostra corsa competitiva all'interno delle carcere, dall'iniziativa di Re Bibbia, che faremo dentro Re Bibbia, partirà alle ore 10.30, il fischio di inizio della Vivi Città 31esima edizione, e abbiamo voluto stare all'interno del dibattito nazionale ed europeo che riguarda il sistema carcerario. La gara, che misura 12 chilometri, è aperta a tutti e prevede una classifica unica con tempi compensati in base alle difficoltà dei diversi percorsi. Da Budapest a Osaka e Yokohama fino a Tusla e Sarajevo. Domenica prossima si correrà all'insegna dello slogan Città sostenibili e comunità attive. Le gare di Roma e di Milano partiranno dalle carceri di Re Bibbia e di Opera.